Ciao amici benvenuti nel mio canale guarda e impara.Ande Ercel è una delle attrici più famose al mondo. Il suo carisma e il suo talento l'hanno portata a posizionarsi come una delle persone più influenti degli ultimi tempi, soprattutto sulle piattaforme digitali. In questo modo, al suo vasto curriculum si aggiunge ora la categoria degli influencer. Nonostante il suo ruolo nei social network sia abbastanza lontano da quello che fa la maggior parte dei suoi colleghi cyber. In questo senso si può ritenere che l'artista non traga profitto dalla sua vita privata, ma tutto ruoti attorno alle sue attività commerciali. I 29 anni di Ande Ercel la rendono una nativa digitale, quindi l'uso del web 2.0 è un campo che padroneggia perfettamente. Per questo motivo, sfruttando il suo nome, la sua fama e l'incredibile flusso di follower sul suo account Instagram personale, più di 31 milioni di utenti. L'ex fidanzata di Karen Bursina ha rassegnato le dimissioni e ha concluso un accordo perfetto che l'ha chiusa ovunque. Come riportato dalla stampa del suo paese natale, Ande Ercel ha deciso di rendere i suoi profili sui social media ancora più redditizi. Oltre ai cachet che riceve per essere il volto di prestigiose case di abbigliamento, l'imprenditrice ha ora aggiunto una nuova funzione al suo account che consiste in un abbonamento mensile. Si stima che l'importo possa raggiungere 1,10 euro, dove tutti coloro che aderiranno potranno accedere al materiale esclusivo del protagonista di Love is an IEA, comprese pubblicazioni e materiale riservato. L'analisi delle metriche è uno strumento essenziale per il digitale creatori di contenuti. L'interesse suscitato dalla presenza di Ande Ercel lo rende una delle persone più famose su internet a livello mondiale. Per fare un semplice esempio di questo fenomeno, all'ultimo festival di Cannes, la ragazza è stata menzionata più di 34.800 volte su Twitter, posizionandosi nella top 10 della classifica mondiale per diverse settimane consecutive. Senza dubbio, non perde l'occasione di continuare a trarre profitto dalla sua fama mentre i suoi seguaci celebrano questa iniziativa. Sentendo con ciò un po' di esclusività e riservatezza che li unisce ancora di più al loro idolatra.